Sposatevi ogni giorno che motivo è sposatevi ogni giorno? Cioè mettete ogni giorno quell'entusiasmo, quella gioia, quell'amore, quella fiducia che per ora alberga nel vostro cuore e allora le difficoltà saranno veramente sciolte con il vostro amore, con la vostra fiducia, con l'onnipotenza di Dio e voi farete veramente cose belle e cose grandi nella vostra vita e Gesù che ve lo promette e Gesù certamente si accompagna a voi. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.